Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi apriamo il set allenatore fuoriclasse di Origine Perduta Un set che ultimamente sto aprendo molto, soprattutto nei reels su TikTok che mi invito a seguire Sempre BSA Pokémon Il set allenatore fuoriclasse di Origine Perduta, al contrario di quello di Pokémon GO Contiene soltanto 8 buste, come la maggior parte dei set allenatore fuoriclasse Contiene sempre 65 bustine, 45 carte energie, una guida giocatore di Origine Perduta 6 dadi segnalini danno, un dado lancia moneta, due segnalini delle condizioni speciali in Plexiglas Un segnalino viastro sempre in Plexiglas Un cofanetto, ovvero la scatola Per contenere le vostre carte E i divisori Se avete seguito TikTok avrete notato che sono arrivate di nuovo le collezioni di Charizard Se questo video arriva, diciamo, a mille visualizzazioni Che è un numero comunque onesto Allora apriremo anche quella collezione in video YouTube per voi Andiamo quindi ad aprire il set allenatore fuoriclasse senza perdere tempo Abbiamo la guida Con all'interno una spiegazione e un elenco soprattutto delle carte di spada e scudo Origine Perduta Qua potete anche andare a segnare quali siete riusciti a collezionare e quali no Andando magari a fare una X o una spunta sul quadratino Poi abbiamo il portamazzo con giratina Rispetto forse a quello di Pokémon GO È un po' più figo Anche se il cielo stellato di Pokémon GO rende molto E all'interno abbiamo Il segnalino viastro in Plexiglas I divisori di portamazzo 8 bustine di origine perduta Due segnalini sempre in Plexiglas Le carte energia Un codice che vi lascio I dadi Rossi E le buste protettive Andiamo quindi ad aprire queste 8 bustine E vediamo se siamo fortunati Siamo fortunati quanto lo siamo stati l'ultima volta Con il set allenatore fuoriclasse di Pokémon GO Allora Prima bustina Codice bianco Per voi Due, tre, quattro Energia Città perduta Carbing Komala Bronzor Procraft Electrike Gasly Binnacle Reverse Di Squavet E una rara di Buffalant Non siamo stati particolarmente fortunati col primo pacchetto Speriamo nel secondo Apriamo Sempre codice bianco Eccolo Uno, due, tre, quattro Energia Fenni Energia regalo Aboma Snow Gumi Quanti ne ho visti Meditide Anche di questo Scovet Lygar Phantom Reverse di Ariyama E Opa Anche stavolta Niente fortuna Prossimo pacchetto Il terzo Il terzo di otto Fatemi sapere se sono solo io da avere tutti sti problemi ad aprire questi pacchetti Codice Uno, due, tre, quattro Energia Cascun Cascun Ambipon Aboma Snow Minerag Paras Vasculin Inkay Phantom Reverse di Spectrier Bello Bello E un'altra rara Di Cramorant Niente Questo set Sembra molto molto sfortunato Questo confermerebbe la teoria di molti Al contrario dell'ultima volta Che i set allenatore fuoriclasse Aspetta Dicevo che i set allenatore fuoriclasse non sono buoni per spostare Ma qua abbiamo un codice nero Codice per voi Quattro Energia Luminion Portale Miraggio Machok Litwick Snoover Righorn Ipom Roselia Una Reverse di Shuppet E una Holo di Orbit Orbitol Meglio una Holo che le rare di prima Ma Non ci basta Non ci basta Quarto Quattro Ultimo Quindi Quinto pacchettino Vedo un codice bianco Codice per voi 2, 3, 4 Energia Spino Bronzog Esperimento di Acromio Morcrow Morple Clefairy Lickitung Orsia Oh Eternatus V Meglio Molto meglio E Spiriton Questa La mettiamo qua Terzo Ultimo Codice nero Per voi 1, 2, 3, 4 Speriamo negli ultimi tre pacchettini Energia Scatola del disastro Bronzog Sperimento di Acromio Dynamo Tividot Orsi Meditite Cellos Reverse di Machop Barbaracol Olo Ultimi due pacchettini Codice nero Codice per voi 1, 2, 3, 4 Energia Braccio caricato Machop Portale miraggio Clefairy Rosiglia Porygon Inky Blipbug Reverse Spiritond Ok Giratina V Comunque una fantastica carta da trovare Volevamo quella dorata Questa ce l'abbiamo già Ma Va bene Va bene Quindi Speriamo nell'ultimo pacchettino Purtroppo un codice bianco 1, 2, 3 Però abbiamo un segnalino Pompadanni Pompadanni Serviper Stunfisk Galar Makuhita Elektraik Murkrow Zuppet Volple Reverse di Ariados E Raichu Molto bella Ma Non cercavamo questa L'artwork è molto molto bella Quindi Abbiamo trovato Giratina V E Eternatus V Trainer Gallery Siamo partiti molto male Ma ci siamo un po' ripresi verso la fine Non è stato Come Il set allenatore fuori classe Di Pokémon GO Dove abbiamo trovato un'alternativa art Ma Va bene Va bene così Per questo video è tutto Vi ringrazio Per Avermi seguito Vi auguro Una buonissima giornata E ci vediamo al prossimo video Dove Spero di riuscire a portarvi Il set allenatore fuori classe Di Tempesta Argentata Vi invito a Seguirmi sui social TikTok Instagram E qua su Youtube Magari attivando la campanellina Per non perdervi Le notifiche Ciao E al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti